Da Burger King, you are the key. Direttamente connesso su Facebook, Alessandro Veneziani, il vostro VJ di Burger King Brembate e Burger King Pusnago. Siamo pronti con le novità? Io sono prontissimo! Non so se avete notato che su Facebook ultimamente le pagine sono estremamente animate con promozioni, con sconti e con novità. Il mese scorso abbiamo proposto a tutti i nostri fan uno sconto sui menu, bastava cliccare mi piace e tu l'hai fatto! Se non vuoi perdere tutte le occasioni e tutto quello che riguarda il mondo di Burger King, diventa nostro fan sulla pagina Facebook di Burger King Brembate o Burger King Busnago. Ma soprattutto vai sul nostro sito internet foodking.it, perché lì troverai un mare di sezioni, come ad esempio quella dei ristoranti, i prodotti in promozione, come organizzare una festa da Burger King e poi il blog con tutte le novità. E se vuoi diventare un nostro testimonial, cosa devi fare? È semplicissimo! Lascia un commento direttamente all'interno della pagina di Facebook e io lo pubblicherò. Mandaci le tue foto, mandacele adesso e rimani sempre connesso con la comunità più gustosa di internet. Ciao ragazzi, a presto da Alex, un saluto!